Quanto state bene? Bene, bene, benissimo Da dieci a cento? Da dieci a cento? Mille Mille Ah proprio questa sera È una serata particolare Molto? Per me è la prima Ma si può svelare il segreto? Qual è? Qual è? Il Cuba? Ah solo il Cuba? Non ci credo Ma no, l'organizzazione Divertirsi Eh? Divertirsi Divertirsi Siete fidanzatissimi voi due? No, no Non siete fidanzatissimi Non me l'ha mai data Ah non ancora Gira di qua, guarda di là Non ci crediamo Da dove arrivate? Milano Da? Da Como? Da mia e da qua Ah ti siete conosciuti questa sera? No No Ci conosciamo da un po' Balliamo sempre in giro a Milano E ci conosciamo Ok ci fa molto piacere Cosa ti aspetti da questa vacanza? Divertirsi Volevo dire a tutti Bere Questi vogliono bere Vabbè Vogliono bere e divertirsi Grazie ragazzi Tu sei? Francesco Enrica Enrica Francesco da Como Enrica da Milano Ok Grazie Ciao Ciao